Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regine Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu che sei amore, sia santificato il tuo volere. Venga il tuo regno, sia santificato il tuo regno, sia santificato il tuo regno, sia santificato il tuo regno. La tua volontà, come in cielo, sia gloria dei nostri cuori in terra. Donaci tre panni della vita, nel riferito eterno e immenso, tuo volere insegnaci il tuo perdono. Per essere perdono ai fratelli, per essere perdono ai fratelli, per essere perdono ai fratelli. Donaci tre panni della vita, nell'infinito eterno e immenso, tuo volere insegnaci il tuo. E allora è libera, sia santificato il tuo regno, tuo volere umano. Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia. Padre, tu che sei la vita vera. Padre, tu sei la mia volontà. Padre, tu sei la mia volontà. Dal breve esagio sulla divina volontà, il 6 dicembre 1917, volume dodicesimo, Luisa scrive. Dopo aver ricevuto Gesù in sacramento, stavo dicendogli, ti bacio col bacio del tuo volere. Tu non sei contento se ti do solo il mio bacio, ma vuoi il bacio di tutte le creature. Io perciò ti do il bacio nel tuo volere, perché in esso trovo tutte le creature, e sulle ali del tuo volere prendo tutte le loro bocche, e ti do il bacio col bacio del tuo amore. Affinché non ti baci col mio amore, ma col tuo stesso amore. E tu senti il contento, le dolcezze, la suavità del tuo stesso amore sulle labbra di tutte le creature. In modo che, attirato dal tuo stesso amore, ti costringa a dare il bacio a tutte le creature. Onde il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia mia, quanto mi è dolce vedere, sentire l'anima nel mio volere. Senza che lei se ne avveda, si trova nelle altezze dei miei atti, delle mie preghiere, del modo come facevo io stando su questa terra. Si mette quasi al mio livello. Io nei miei più piccoli atti racchiudevo tutte le creature passate, presenti e future, per offrire al Padre atti completi, a nome di tutte le creature. Nemmeno mi sfuggì un respiro delle creature che non lo racchiudessi in me. Altrimenti il Padre avrebbe potuto trovare eccezioni nel riconoscere le creature e tutti i loro atti, perché non fatti da me e usciti da me. Avrebbe potuto dirmi Non hai fatto tutto per tutti. La tua opera non è completa. Non posso riconoscere tutti perché non li hai reincorporati in te. Ed io voglio conoscere solo ciò che hai fatto tu. Perciò nell'immensità del mio volere, del mio amore e potere, feci tutto e per tutti. Onde Come mai possono piacermi le altre cose, per quanto belle, fuori dal mio volere? Sono sempre atti bassi e umani e determinati. Invece gli atti nel mio volere sono nobili, divini, senza termine, infiniti. Qual è il mio volere? Sono simili ai miei ed io do loro lo stesso valore, amore e potere dei miei stessi atti. Li moltiplico in tutti, li estendo a tutte le generazioni, a tutti i tempi. Che mi importa che siano piccoli? Sono sempre i miei atti che si ripetono. E basta. Ecco, attraverso quello che abbiamo appena ascoltato, Gesù spiega bene alcune caratteristiche peculiari dell'agire nella Divina Volontà. Partendo da un esempio molto bello, c'è l'esempio del bacio che Luisa stessa, come ci informa, usava offrire a Gesù dopo che l'ho ricevuto nel Santissimo Sagramento dell'Eucharistia. È chiaro che la prima cosa che deve notarsi è l'amore immenso che quest'anima, Luisa, aveva nei confronti di Gesù Eucharistia. Cioè, è vero che Gesù come spiega vuole essere baciato col bacio del suo volere. Perché? Ecco, perché attraverso questo bacio che è un bacio divino e quindi eterno e infinito è tutto il creato che porta a Gesù il suo bacio dato col suo stesso volere. Quindi a lui sommamente gradito e spiega ti do il bacio col bacio del tuo amore non col mio amore ma col tuo stesso amore dice Luisa, no? Quindi questo non perché Luisa non lo amasse ma perché Luisa lo amava oltre misura e quindi voleva dargli un bacio degno di Gesù. Cosa voglio dire con queste cose? Le finezze e le raffinatezze della vita nel divino volere è evidente che presuppongano tuttavia delle anime innamorate e che abbiano compreso il mistero del cuore di Gesù come mistero di amore e siano quindi già entrati in un orizzonte personale e peculiare di amore infinito nei confronti di Gesù. Noi sappiamo che con Dio possiamo avere vari gradi di rapporti, no? Dio possiamo avere un rapporto con Lui come di un essere non ben definito lontano sì, certamente onnipotente onnisciente tutto quello che vogliamo ma che ha dato alcune leggi che bisogna osservare perché altrimenti chi lo sa che cosa poi va a succedere o peggio qualcuno pensa che Dio stia lì in alto nei cieli e si disinteressi addirittura delle vicende umane o peggio ancora qualcuno gli attribuisce la causa delle sofferenze del male presente nel mondo, no? poi c'è qualcuno che magari si avvicina un pochino di più però incarna la psicologia del fratello maggiore della parabola del figlio del prodigo cioè sta fondamentalmente avendo con Dio un rapporto distante ecco freddo formale cioè che pur essendo un signore un figlio di fatto vive come se fosse un servo un garzone quindi e queste sono le anime che non hanno interiorità che non hanno un profondo spirito di preghiera e cosa voglio dire cioè evidentemente la vita nel divino volere è una sublimazione estrema all'ennesimo livello di una vita di preghiera che in qualche modo deve essere già già presente no? nelle nostre nelle nostre anime cioè come faccio io a moltiplicare gli atti durante la giornata mantenere questo filo in interrotto di unione col divino volere no? che non è altro che una sublimazione di un esercizio che già è insegnato in ascetica classica che è il vivere alla presenza di Dio no? quindi sotto i suoi occhi quindi è qualche cosa che richiede grande interiorità no? la vita nel divino volere è vita tutta interiore quindi è vita di comunione intima profonda che ha chiaramente dei momenti in cui viene come dire particolarmente esercitata adesso non vorrei sembrare irriverente però la vita con Gesù o la vita con Maria per chi è devoto della divina Maria e quindi preferisce far passare tutto attraverso di lei quindi non andare direttamente a Gesù tanto è la stessa cosa non mi stancherò mai di ripeterlo come scrive bene San Luigi Monforto nel trattato della vera devozione è vita sponsale è vita di amore sponsale cioè è tra l'altro di una sponsalità divina e analogicamente si vive dentro questa sponsalità divina come dire la logica l'espressività dell'amore umano tra due sposi cioè due sposi si amano sempre quando sono veramente innamorati quindi durante la giornata che cosa dovrebbero fare i due sposi santi quando si incontrano si abbracciano si danno un bacetto cioè dovrebbero avere questa esigenza di stare sempre insieme dovrebbero attendere come dire con gioia con trepidazione nel momento in cui stanno da soli in camera possono effondersi in sante intimità che abbiamo bene no perché perché si amano perché vogliono stare insieme perché vogliono comunicarsi darsi amore reciprocamente allora nella vita di orazione cioè queste stesse identiche cose si trasfondono nel nostro rapporto con Gesù e con Maria allora questo questo legame chiaramente incessante che è necessario per perché piano piano tutta la nostra vita diventi una vita nella divina volontà senza nubi senza zone d'ombre senza zone d'uscita no un figlio del divino volere la sera quando fa l'esame di coscienza è chiaro che una delle prime cose che deve chiedersi è ci sono state delle zone d'ombra in questa giornata cioè dei momenti in cui ho completamente perso il filo l'unione con la divina volontà non mi sono unito alla divina volontà ho lasciato delle azioni dei pensieri fuori della divina volontà ecco ma quando si è veramente innamorati chi ha avuto l'esperienza di essere innamorato non si pensa ad altro non si pensa a nient'altro non si desidera nient'altro che tutto il mondo sparisca e si possa stare dieci minuti un quarto d'ora un'ora da soli con l'amato o con l'amata questa meditazione cade diciamo a livello contingente nel primo venerdì del mese oggi è il primo venerdì del mese che cos'è la rivelazione del sacro cuore di Gesù Gesù ha provato in tanti modi di farci comprendere chi lui è e cosa vuole la rivelazione di un amore immenso e infinito e ardente da parte del Signore che tra l'altro desidera esige il ricambio da parte della creatura cioè noi dobbiamo cioè è chiaro che Gesù tu dici ma Gesù che ha bisogno del mio amore lui che è Dio ma no non si tratta di avere bisogno capite non è un problema del bisogno è un problema però che l'amore ha la sua come dire esigenza intrinseca cioè che è quella che cantava Dante nella Dina Commedia un amore che ha nulla amato amar perdona cioè desidera il contraccambio perché un rapporto d'amore ci vive in due che ci sia soltanto una persona che ama e quell'altra non risponde non corrisponde non ricambia è chiaro che è una non è una cosa bella è una frustrazione è una fonte di sofferenza non è certamente l'ideale allora questo per dire cioè la sensibilità la delicatezza di una Luisa che dice ti do un bacio ma te lo do nella Divina Volontà ma capite vuol dire che era abituata dopo la Santa Comunione a darglielo il bacio a Gesù capite quindi a Gesù si danno i baci come non si danno ma io non non lo vedo e non lo vedi ma hai il crocifisso davanti ce l'hai quanto vuoi no quindi puoi dare come dire dei baci reali usando il crocifisso così come la Madonna non la vedi ah va ci esistono le statue della Madonna ci esistono le immagini no opere tra l'altro indulgenziate se uno apre l'indulgenza baciare il crocifisso baciare un'immagine sagra della Madonna cioè l'indulgenza parziale il fatto stesso di compiere questo gesto sapete che ai moribondi si porta il crocifisso e si porge il crocifisso da baciare se uno moribondo non capisce più niente e accetta di dare un bacio al crocifisso eh già quello è un atto che gli risparmia certamente l'inferno no perché è un atto di amore compiuto da Gesù ecco quindi la prima cosa da chiederci perché poi capite che la divina volontà se stiamo in qualche modo comprendendo tante cose è via di amore assoluto di amore assoluto anzitutto però vissuto con Gesù e con Maria e poi in maniera autentica d'accordo in maniera profonda in maniera intensa affettiva ed effettiva e quindi poi ha riversato tutte quante le creature no tante volte ho già detto che come si entra nella divina volontà eh facendo tante cose ma anzitutto facendosi attenti ai tutti ti amo di Dio che sono in continuazione intorno a noi e l'uomo purtroppo è privo di intelletto anche se ce l'ha non riesce a farlo funzionare bene non li riconosce ma ubriacato insomma dalle menzogne sataniche e e in valia della propria ottusa volontà del proprio oscurato intelletto che non capisce più niente vede sempre l'uccio le perlaterne quindi non vede l'amore di Dio quindi non ricambia Dio con amore non ringrazia Dio e vive questa vita poveraccia e meschina ecco baciare Gesù nella divina volontà significa non soltanto portargli il mio di bacio ma portargli di tutti e dare a Gesù una gioia in questo modo immensa e attenzione se io baciando Gesù nella divina volontà gli porto il bacio di tutte le creature è capito in un certo senso sta scritto qui eh che abbiamo letto costringo Gesù a dare a tutte le creature questo bacio capito un bacio di Gesù può provocare diverse reazioni insomma in un'anima diverse buone reazioni no? può essere la conversione di un peccatore può darsi che un'anima tiepida la smetta con la sua tiepidezza e e comincia ad essere un po' più fervorosa no? un'anima che brancona in mezzo a tante illusioni spirituali può darsi capo agli occhi e capisca insomma che lo stato in cui si trova un'anima non obbediente che travisi tante cose stia sempre a vedere luce per lanterne anche nella vita interiore anche nella direzione spirituale eccetera può darsi che finalmente abbia una luce e apra gli occhi quindi Gesù spiega che non ci si accorge senza che lei se ne avveda si trova nell'altezza dei miei atti delle mie preghiere del modo come facevo io stando su questa terra è impressionante ecco perché la vita nel divino volere ecco anche perché la vita nel divino volere è vita tutta interiore ed è santità la più strepitosa che esiste non soltanto perché lo è per la potenza insomma per la grandezza in cui immette l'anima ma a mio personale avviso lo è anche perché in questa santità non c'è pericolo di orgoglio spirituale e di ostentazione che è un'altra piaga della vita interiore capite allora un conto è la nostra trasparenza e il fatto che noi non abbiamo certamente paura e timore e dobbiamo verificarci su questo dimostrarci come cristiani quindi se in chiesa voglio stare in ginocchio sto in ginocchio se voglio fare la comunione in ginocchio faccio la comunione in ginocchio se sto recitando il rosario in autobus non ho nessuna difficoltà a prendere la corona se mangio con alcuni colleghi ammenza mi faccio il seno della croce faccio un attimo di silenzio per ringraziare Gesù se gli altri ridono peggio per loro ecco quindi un conto questo va bene perché vergognarsi di Gesù della propria fede equivale al peccato di rispetto umano e ci fa incorrere nella chiamiamola nella nella sanzione diciamo così minacciata da Gesù chi si vergognerà di me delle mie parole anche io mi vergognerò di lui davanti al padre mio però il confine tra questo e l'ostentazione e qui dobbiamo essere invocare lo spirito santo e andare in fondo al nostro cuore è labile perché l'ostentazione si fa esattamente facendo le stesse identiche cose però non per come dire discretamente manifestare la mia credenza dare buon esempio e non vergognarmi di Gesù però per ostentarlo per farmi dire guarda quanto sono santo d'accordo e questo è una delle forme psicologiche sottili di quello che si chiama ricerca della propria gratificazione cioè quindi mi sento un fallito un incapace nella vita non ho combinato niente di buono adesso cercherò insomma di trovare un po' di consistenza un po' di soddisfazione come dire un po' di sollievo nella religione e quindi tutte quante le azioni che si fanno in questo modo non valgono niente davanti a Dio perché sono fatte soltanto per apparire e il fine ultimo è il mio ego è la soddisfazione del mio io che ha trovato un altro modo per sentirsi importante questo è sapete che quando Gesù se la prendeva con i farisei come dire se la prendeva con loro sotto due punti di vista perché alcuni erano proprio ipocriti in senso stretto proprio l'etimologia greca del termine ipocrites che significa attore cioè non erano affatto santi d'accordo ma si atteggiavano come tali e poi dentro il loro cuore erano peccatori quando Gesù si scaglia le invettive dice voi siete sepocri imbiancati cioè fa capire insomma che avevano una doppia vita quella ostentata perché in quel contesto culturale atteggiarsi da santi come dire comunque davo un certo blasone un certo status sociale una certa rinomanza ma non lo siete questa è una parte diciamo così del suo biasimo però biasimo anche l'ostentazione quando dice apparentemente fanno lunghi preghiere no non siate come gli ipocriti quando digiunano quando fanno le lemosina che lo fanno per essere visti dagli uomini allora capito dentro un'interiorità così profonda questo pericolo non c'è capito perché se io voglio dire nella divina volontà devo fare dalla mattina alla sera un esercizio che richiede un grande impegno dell'attenzione di come dire di attrarre tutti gli atti che faccio dentro l'orbita del divino volere di chiamarla ad operare in me a fondermi con lei sulla base della fede assoluta che io ho che questi atti in questo modo diventano divini quindi sono sommamente santificanti per me ma sono anche sommamente benefici santificanti per tutti però senza che nessuno lo sappia senza che nessuno mi possa dire grazie e senza che io stesso veda le conseguenze delle mie azioni che è sempre molto pericoloso molto pericoloso perché il rischio della superbe e della vanagloria è sempre incombente un predicatore per esempio se fa una bella predica e poi qualcuno mi va a dire ma quanto sei stato bravo oppure oggi di questi tempi non ti fanno non ti lo vengono a dire ti scrivono una mail c'è sempre il pericolo della vanagloria allora aspetta poi alla persona umiliarsi e riconoscere che tutto quello che c'è di buono da lui non viene da lui viene da Dio e che se Dio gli togliesse la mano sulla terra diventerebbe peggio di una cornacchia o cose di questo genere però capite voi sapete che i francescani quando predicavano andavano sempre in due perché c'era uno che predicava e un altro che pregava primo perché la predica fosse ispirata e secondo che il predicatore non diventasse un pallone gonfiato perché quell'operazione porta a rischio della superbia e tutte le cose esterne pubbliche quindi è una grande santificazione dell'anima e non c'è nessuna controindicazione non c'è nessun pericolo chi vive nel Dio in volere non farà mai nessun male a nessuno meno che mai a Santa Madre Chiesa a cui attirerà oceani ulteriori di grazie e di benedizione come ho detto tante volte un anno che viene nel Dio in volere non può non può e non deve per nessun motivo avere stili che non hanno niente a che fare con quelli di Gesù di Maria ma che assomigliano molto agli stili del diavolo non è possibile capite la carità tutto copre quindi se anche io mi trovassi dinanzi dentro la Chiesa situazioni veramente disastrose scandalose a me se non concesso che mi ci trovassi che le vedessi con i miei occhi quindi se fossi certo cosa farebbe la Madonna in queste situazioni scriverebbe un articolo sul giornale andare a mettere in piazza tutte quante le malefatte le pecche dei figli della Chiesa piccoli o grandi che siano cosa farebbe la Madonna cosa farebbe Gesù comincerebbe a pregare forte a pregare tanto a riparare e a chiedere al Signore la luce perché se qualcuno sbaglia possa ravvedersi pagando di persona quindi facendo penitenze tutte queste cose nel più assoluto silenzio io su questo non mi smuovo nemmeno di una virgola perché per me è di una chiarezza estrema no? allora concludo riprendendo alcune espressioni di Gesù no? come mai possono piacermi le altre cose per quanto belle fuori dal mio volere sono sempre atti bassi e umani e determinati attenzione qui si riferisce a tutti gli atti compresi quelli santi io raccomando sempre di andare a tornare a leggere il trattato della vera devozione nella sezione in cui San Luigi spiega come tutti quanti gli atti compiuti da un'anima che è soggetta alle conseguenze del peccato originale per quanto siano compiuti in grazia di Dio per quanto si abbiano le migliori intenzioni sono sempre macchiati e macchiati d'è brutto non sono belli agli occhi di Dio non lo possono essere lui li accetta per condiscendenza d'accordo perché comunque sono sostanzialmente buoni d'accordo non cattivi ma sono sempre atti di sgorbietti perché noi questo siamo capaci di fare purtroppo invece continuo a Gesù gli atti nel mio volere sono nobili divini senza termini infiniti qual è il mio volere ecco perché non ci deve essere altra attenzione altra intenzione per noi se crediamo a queste cose e se veramente vogliamo santificarci e santificare il buon padre Pio quando gli chiedevano cosa devo fare santificati e santifica è rivolto specialmente ai predi ma questo vale per tutti come mi santifico e come santifico compiendo tutte le mie azioni ma tutte fino a non avere più neanche un secondo come era per la divina Maria di zona d'ombra nel divino volere punto e questo senza ma però bisogna pure fare noi siamo esseri umani stiamo sul pianeta terra cioè è evidentissimo l'abbiamo già detto tante volte che questa non è una vita vissuta nel limbo insomma disincarnata fuori del mondo a fare gli atti e lasciare che tutta vada in malora questa è un'aberrazione e purtroppo vale anche per la divina volontà che ogni cosa viene ricevuta a seconda di quello che è il contenitore quindi verità sublime di questo genere se sono messe in un contenitore malato vengono completamente stravolte travisate quindi un padre fa il padre un prete fa il predo un frate e lo fanno al massimo livello perché lo fanno con la massima perfezione possibile perché questo esige la divina volontà la divina volontà esige opere perfette quindi noi dobbiamo metterci tutto il nostro possibile perché le nostre opere tutte siano perfette però sapendo che non lo sono cerchiamo di compierle tutte nel divino volere per offrire al Signore atti degni di Lui bene facciamo il solito minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti pensiamo e ci rallegriamo enormemente la divina Maria a tutti quanti i baci che tu hai dato al tuo Gesù fin da quando era piccino neonato tra le tue braccia mentre lo allattavi al tuo santissimo seno o lo vezzeggiavi e ricoprivi di amore nella grotta di Betlemme o nella sua primissima infanzia quanti baci nella divina volontà hai dato tu a Gesù e come e quanto da te dobbiamo imparare il tuo amore verso Gesù che era amore non soltanto di madre la più tenera e la più grande delle madri ma era amore di sposa era amore di innamorata era amore di amica era amore di collaboratrice di compagna e di socia tra te e Gesù tutte le forme sante di amore si sono concretizzate compresa anzi soprattutto presente quella sponsale cantata nel cantico dei cantici che indubbiamente ha te e Gesù come protagonisti primi e principali noi ti chiediamo di una Maria di infiammare il nostro cuore di amore per te e per Gesù ma proprio infiammarlo come il cuore di San Filippo Neri che prendeva letteralmente fuoco preso dall'amore ardente verso Gesù fino addirittura al punto da vedere spostate le costole del suo petto veramente tanto era l'ardore dell'amore è solo quando avremo un amore così grande che saremo capaci veramente di vivere completamente immersi nella divina volontà senza mai perdere di vista te e Gesù in tutti i nostri atti e saremo anche veramente degli echi fedeli dei poli che riversano questa pienezza traboccante di amore come tu e Gesù volete qualunque anima persona situazione che noi incontriamo ebbene per questa giornata ricordare proprio l'esempio del bacio e rievocare cosa significa baciare Gesù nel divino volere e facciamo anche questo gesto magari mettendoci davanti al crocifisso come giaculatoria di oggi Gesù ti bacio nella divina volontà 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 Gesù ti bacio Gesù ti bacio nella divina volontà Gesù ti bacio nella Divina Volontà Gesù ti bacio nella Divina Volontà in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la Sua M Padre Santissima, prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo di intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre, Regina della Dina e Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggero delle tre divine persone affinché tu risorghi dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi ed imprima nella tua volontà il suggero della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprima nel tuo intelletto il suggero della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprima nella tua amore il suggero del suo amore. Ti siano restituiti le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita di ogni grazia ed arricchita e abelita di ogni bene e virtù la tua anima e per circondarti di difesa contro il demone e il mondo della carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose che tu hai creato affinché tu risiedi a tutto e benediti da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore. La mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria. Grazie. 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 Grazie.